Non si conosce esattamente l'epoca in cui sono arrivati sulla terra questi esseri. C'era l'oscurità e su una distesa d'acqua galleggiava un'ampolla. Dentro questa ampolla si poteva scorgere un nucleo vivente. Ed ecco che all'improvviso il nucleo si divise in tre parti e ognuna di queste divenne un essere mostruoso. Non erano uomini, né animali, né piante. Forse erano spiriti. Ma il loro aspetto fisico non corrispondeva ai loro sentimenti. Infatti erano i giusti. Nelle loro vene scorreva il sangue della giustizia. Sappiamo ora che sono venuti sulla terra a combattere il male. Riusciranno un giorno a diventare esseri umani?